L'Unione Europea deve aprire le sue porte ai paesi che stanno lottando per i suoi valori. È il messaggio che la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha portato qui, al Forum Economico di Davos. Ora, la domanda è quando l'Ucraina potrà aderire all'Unione Europea. Sarò categorica. Noi, come Parlamento Europeo, vogliamo che l'Ucraina diventi un paese candidato il prima possibile. Gli ucraini stanno combattendo una guerra che è anche nostra, stanno lottando in Europa contro un regime autoritario che intimidisce, minaccia e ricatta l'intera Unione Europea, l'intero continente, se non diciamo che apriremo le nostre porte ai paesi che lottano per dei valori fondamentali che tutti noi condividiamo con orgoglio. Allora, come potremo prendere le distanze da tutta questa violenza? Oltre al sostegno politico, gli uomini d'affari qui a Davos stanno discutendo su come possono fare la loro parte nel sostenere l'Ucraina e attuare le misure di condanna all'invasione del paese. Non lo chiedono solo imprese europee, ma anche aziende americane. Il messaggio che riceviamo dal mondo dell'imprenditoria è che non c'è futuro per gli affari in Russia. Quindi ora l'attenzione è sull'Ucraina e su ciò che le imprese stanno facendo per fornire aiuti umanitari e per la riapertura delle loro attività in tutto il paese. Il 20% dei nostri associati ha subito danni alla propria attività, il 7% di loro registra vittime tra i propri dipendenti, ma ora si tratta di guardare alla ricostruzione e al ruolo che avranno le imprese nel ricostruire un nuovo paese nell'Europa del XXI secolo e nell'Europa centrale. Tra un panel e l'altro, durante il forum economico di Davos abbiamo avuto modo di conoscere alcune delle persone che stanno partecipando a questa edizione della rassegna economica. Mi chiamo Benjamin Heimer, sono francese e vivo a Parigi. Sono qui in quanto membro della giuria del Top Tier Impact Awards che premia le start-up innovative nel campo della sostenibilità ambientale. Crediamo che vivere nel mondo di oggi significhi decentralizzare e lasciare ai giovani di dire quello che vogliono senza che qualcuno dica a loro quello che devono fare. Tushar Singhvi, dagli Emirati. Come mai sei qui? Per affari, per incontrare altra gente, fare rete. Il forum raduna persone che vengono da diversi contesti e settori per fornire delle soluzioni ai problemi del mondo, alle sfide che devono essere affrontate a livello multilaterale.